Ehi, signorina Enrica, siamo pronti con la vernice, possiamo iniziare a imbiancare? Cominci pure, io intanto finisco di pulire qui. Ma come vuole? Non mi dà una mano, scusi? Non le do una mano! Ma che crede che stia ballando la rumba? Ma pensi un po' che le ho fatto anche un piacere! Ho trovato nel cassetto una montagna di lettere, tutte legate con un nastro rosa! E cos'ha fatto? Le ho spedite tutte! Ma come le ho spedite tutte? Quelle sono lettere d'amore! Io non l'ho mai spedita a nessuno, non vanno spedite! E lo sa perché? Perché lei non è un uomo coraggioso, è un uomo coraggioso, non si ferma davanti a nulla! Ma che c'entra? Vabbè, vabbè, intanto lei continua a condurre il TG che dopo dobbiamo verniciare tutta la casa! Che è meglio! Ebbene, che ragazze a questo punto noi dobbiamo dare... Signoramena mia! Chi è questo amore mio dolcissimo, eh? Lei ha mandato una lettera alla mia magna! Ma no, ma signora Tazzi, le posso spiegare tutto, è successo un disastro prima, insomma, ero qui con la signora Elika... Ma che disastro è disastro! Laveremo quest'onta col sangue a mezzanotte davanti al cassonetto della monnizza! Ah! Certo che questo cassonetto ne vede sempre, un retro l'altra, eh! Va bene, ragazzi, guardiamoci il cartello animato, che è meglio! Che campioni, moglie, belge, campioni stili! Che campioni, moglie, belge, campioni stili! Un cannoniere ed un portiere, determinati e scatenati, hanno la classe dei fuoriclasse, Olli e Benji! Sono due cicloni, questi campioni, nel loro cuore batte un pallone, sanno giocare, voglio sfondare, Olli e Benji! Hanno la forza dell'umiltà e tanta volontà! Olli è un grande gole ad or, scatta e segna tanti gol, Benji para e calci di rigore! Che campioni, moglie, Benji! Vinceranno il campionato, sia per Olli, sia per Benji! Scoppia un tipo in diavolato! Che campioni, Olli e Benji! Questa coppia eccezionale, guiderà la nazionale! Che campioni, Olli e Benji! Che campioni, Olli e Benji! Che campioni, Olli e Benji! Bimomba!